Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al Signore degli Annelli LCG. Che cosa facciamo questa sera? Andremo a fare la review delle carte della prima deluxe, la deluxe di Khazad-Dum, che ovviamente capiremo essere incentrata soprattutto sul tratto nano. Allora, prima di partire con le modalità che abbiamo visto anche nei precedenti Adventure Pack, se vi piace il canale non dimenticate di iscrivervi cliccando in basso a destra e attivare la campanella per essere aggiornati e ricevere le notifiche e possiamo partire. Allora, anzitutto questa si presenta come una deluxe, quindi una box, una scatola, con dentro una serie di carte giocatore e tre quest collegate tra loro narrativamente. Quindi rispecchia un po' il corset, se vogliamo, da un certo punto di vista. Tuttavia, ovviamente, avremo meno carte e le quest saranno in questo caso ambientate a Moria e chiaramente avremo necessità del corset per poter giocare, per avere tutti i token e tutte le varie cose. Ok, allora, come si presenta la deluxe? Abbiamo due eroi, Duolin e Bifur, abbiamo tre carte viola, tre carte rosse, tre carte... no, scusate, due carte azzurre, due carte verdi e una carta neutrale. Ok, quindi abbiamo un predominio di carte viola e rosse in questa box. Poi, il ciclo corrispondente, che sarà quello di Nanosterro, invece andrà a sviluppare altri tratti, in modo particolare i tratti in Oldor, con quattro eroi su sei che saranno in Oldor, un Aragorn in una nuova versione e un eroe, Rohan. Allora, partiamo subito, vediamo un po' che tipo di eroi ci ritroviamo in questa deluxe. Allora, il primo è Duolin, è un eroe a costo 9, 1, 2, 2, 4, è un nano. Risposta. Dopo che Duolin attacca e distrugge un nemico orco, abbassa la tua minaccia di 2. Allora, anzitutto, salutiamo con piacere una carta che in qualche modo ci aiuta a ridurre la nostra minaccia. In modo particolare, Duolin, molto tematicamente, ma questo vale un po' per tutte le carte, dopo che è attaccato e distrutto un nemico che ha il tratto orco, abbassa la tua minaccia di 2. Quindi, diciamo, ci troviamo un eroe dentro la sfera azzurra, dentro la sfera spirito, che di fatto non è un gran questatore, anzi, ha delle buone caratteristiche di attacco e di difesa, ma soprattutto ha un'abilità che lo rende un ottimo attaccante, no? Quindi ci troviamo all'interno di una sfera azzurra, un attaccante, comunque un eroe che preferiremo usare in attacco piuttosto che in fase di quest. Facciamo un passo indietro, e il passo indietro si chiama Dain. Ora, avevamo parlato di Dain nel precedente Adventure Pack, Ritorno a Boss 4, e che cosa possiamo dire? Che noi possiamo considerare i Nani in due grosse build, no? Sostanzialmente una con Dain e una senza Dain. Diciamo che allo stato attuale del meta, se uno vuole giocare Nani, non ci sono motivi ragionevoli per escludere Dain, perché, diciamo, in quanto Rai dei Nani ha degli effetti passivi talmente forti, talmente potenti, e soprattutto col ciclo di Casa Doom e di Nano Sterro, vedremo tanti alleati Nani, tante carte che potenzieranno i Nani, che faranno sì che, insomma, Dain sia, insomma, per un bel po' di tempo uno degli eroi principali del gioco e l'eroe principale quando vogliamo giocare Nani. Perché questa digressione? Perché chiaramente se noi guardiamo a Duolin, non lo guardiamo più con le caratteristiche 1, 2, 2, 4, ma lo guarderemo con le caratteristiche 2, 3, 2, 4. Questo perché assumeremo tendenzialmente che Dain sia sempre tra i tre eroi di partenza, no? Chiaramente poi qua si è affrontata una serie di considerazioni, però portiamo avanti entrambe queste logiche, cioè guardiamo la carta così com'è e guardiamo la carta così com'è insieme a Dain, ok? Quindi, Duolin ha delle statistiche buone da usare nella fase di combattimento, e in più ha un'abilità che, soprattutto in alcuni cicli del caso del ciclo di Khazad-Dum, dove ci saranno tanti orchi, tanti goblin a Moria, ma anche in altri cicli, sicuramente ha un'abilità che lo rende, diciamo, che lo colloca correttamente all'interno della sfera spirito, in quanto si parla di threat reduction, e che può essere molto interessante, perché immaginate che sarete spesso e volentieri nel ciclo di Khazad-Dum svormati, quindi attaccati in gran numero da parte di goblin e orchi, il fatto che Duolin vada a ridurre la minaccia di due, una volta che viene distrutto un orco, lo rende particolarmente interessante. Ecco, non c'è peraltro un limite alla sua abilità, per cui qualora usaste un coraggio inaspettato, potreste addirittura far fuori due orchetti, due goblin, e insieme a Dain l'attacco di tre rende, come si può dire, Duolin un attaccante in grado spesso di far fuori sicuramente i goblin, magari con qualche trucchetto, o magari insieme ad altri, anche altri orchi più grossi, ma insomma, non essendoci il limite, vi permette di ridurre la vostra minaccia di due più di una volta. Per cui è sicuramente una carta interessante che accogliamo con piacere, un po' come tante carte di questo ciclo, in realtà soprattutto gli Adventure Pack avranno delle carte veramente notevoli che accompagneranno e ci accompagneranno un po' proprio per tutto il gioco. Bene, spostiamoci verso Bifur. Bifur è un eroe della sfera verde che costa 7, quindi un costo in minaccia molto interessante, 2-1-2-3, principalmente sarà un questatore Bifur, nonostante sia in grado di resistere anche a qualche attacco debole, e ha un'azione che dice che paga una risorsa dal pool delle risorse di un eroe e aggiungi una risorsa a Bifur, al pool delle risorse di Bifur. Ogni giocatore può utilizzare questa abilità. Limite una volta per round. Allora, Bifur è una carta che spesso, anche se non si gioca il tratto nano, può essere utilizzata per splashare il verde nei vostri mazzi. Perché? Perché sostanzialmente lui ha la capacità di generare non una, ma due risorse a turno, andandole a prendere sia dagli eroi del vostro party, diciamo, sia dai vostri eroi che in quel momento non necessitano di risorse, sia eventualmente in multiplayer, in due, tre o quattro giocatori, da quegli eroi che, diciamo, per quel turno, per quell'occasione, in quello specifico momento, non hanno bisogno di utilizzare le risorse. Perché è altamente splashabile? Perché, beh, insomma, pagate 7 di minaccia per avere 2 di willpower, non è malvagio, non è assolutamente malvagio, non parliamo poi di che cosa diventa ovviamente con Dain, perché chiaramente avremo un eroe che andrà in impresa in quest di 3, pagandolo solo 7, veramente notevole. Ma, anche se non giocate il tratto nani, Bifur è un alleato che, e scusate, è un eroe che, anche tramite canzoni che abbiamo visto nel ciclo precedente e o una carta che vedremo da poco, che è la cintura di Narvi, vi permette di gestire al meglio la curva dei costi dei vostri mazzi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, se sostanzialmente, voi giocate il verde come singolo eroe e giocate addirittura o un due colori su un'altra sfera o un tre colori, in realtà il fatto che Bifur vi permetta di poter prendere una risorsa da un altro eroe, fa sì che, come detto prima, Bifur possa addirittura avere due risorse a turno e quindi vi permette di giocare carte verdi che altrimenti non potreste giocare con una certa facilità in un mazzo B o tricolore. Quindi Bifur lo aggiungiamo alla compagnia e sarà sicuramente utilizzabile in un mazzo che si basa sull'archetipo nano grazie anche a Dain, ma è un eroe che troverà ampiamente spazio in tutte quelle build, in tutti quei mazzi che vorranno in qualche modo mettere il verde, ricordiamo che il verde è il colore della pesca e soprattutto della cura che diventerà sempre più importante andando avanti e Bifur andrà a, come si può dire, a ricoprire il ruolo di eroe della sfera verde utilizzabile in tanti altri mazzi. Quindi, insomma, è un'aggiunta super interessante che vi permette di giocare anche, cioè che può essere giocata anche al di fuori del tratto nano. Spostiamoci verso, come detto precedentemente, alla Narvis Belt. Allora, questo è un attachment, quindi è un'aggiunta dal costo 2 della sfera viola, è un item, quindi un oggetto, attaccala a un eroe nano, quindi esclusivamente un eroe nano. Azione, esaurisce la cintura di Narvi per dare all'eroe l'icona, diciamo, tattica, sapienza e così via. Cioè, tutte, una, scusate, una di queste quattro icone fino alla fine della fase. Allora, cosa vi permette di fare? La cintura di Narvi, di fatto, è una canzone, come abbiamo visto nel ciclo precedente, modulabile. Cioè, io ho bisogno che mi faccia da rosso, utilizzerò, tapperò la cintura di Narvi e dirò rosso. Ho bisogno che le mie risorse, che le risorse su cui, o meglio, che le risorse che sono nel pool dell'eroe che ha la cintura di Narvi siano azzurre, dirò azzurro, la tapperò e dirò azzurro. Chiaramente il candidato principale della cintura di Narvi è Bifur, che potrà richiamare a sé risorse tappando la cintura di Narvi andrà a utilizzare quelle risorse in base al colore che vi serve in quel momento. Immaginatevi Gloin, che si prende i danni diretti, indiretti, insomma, si prende i danni e trasforma i suoi danni in risorse, voi utilizzate Bifur per prendere una risorsa di Gloin, utilizzate la cintura di Narvi per dire verde, per esempio, o in realtà Bifur già è verde per dire rosso, e giocate un alleato rosso. Dove è peggio delle canzoni? Beh, anzitutto perché la canzone, una volta che io gioco una canzone, l'eroe guadagna quell'icona. Io gioco la canzone della battaglia e l'eroe guadagna l'icona tattica. La cintura di Narvi oltre al fatto che non è un attachment neutrale che costa due, quindi dovete per forza giocare il viola e dovete avere due risorse per giocarlo, ha lo svantaggio che chiaramente io devo esaurire la cintura di Narvi e l'eroe con questa aggiunta guadagna quell'icona fino alla fine della fase. Perché è importante? Perché di fatto voi lo potete giocare in fase di pianificazione, ma se giocate la cintura di Narvi e l'esaurite in fase di pianificazione, essa non potrà essere utilizzata per esempio per dare al vostro eroe una risorsa, scusate, un'icona tattica e quindi giocare la finta in fase di combattimento. Stesso discorso, se noi ci aspettiamo una brutta perfidia durante la fase di ricerca, durante la fase di impresa, noi potremmo andare ad esaurire la cintura di Narvi prima dell'allestimento dichiarando che le nostre risorse saranno risorse azzurre, per esempio, dello spirito, perché potremo giocare la nostra prova di volontà, la nostra test of will che abbiamo in mano. Quindi è chiaro che se non esce quella perfidia, io ho tappato la cintura di Narvi e non ho, come si può dire, non ho utilizzato la sua abilità perché magari non esce quella perfidia, non gioco la prova di volontà e così via. Quindi lo svantaggio rispetto alle canzoni è un po' questo, cioè nel senso che devo un po' giocarla meglio e sfruttare le finestre di azione. Chiaramente il grosso vantaggio è che con questa carta potete scegliere la risorsa che meglio vi serve in quel momento. Una canzone rossa genera solo risorse rosse. Questa invece addirittura vi permette di andare a prendere e giocare alleati vari o attachment vari proprio perché se prendete questa carta potete generare le risorse del colore che volete. Ok. Spostiamoci verso la canzone di Durin. Ovviamente sempre rimaniamo in tema. È un evento viola, costo 1, canzone, azione, scegli un eroe nano, quell'eroe prende più due alla forza di volontà, più due l'attacco, più due la difesa, fino alla fine del round. Allora, questa è una carta che generalmente io faccio fatica ad usare, io personalmente, ma è una carta potentissima. Cioè, è una carta che in un mazzo nani allo stato attuale del gioco che gioca il viola, mi verrebbe da dire tutti i mazzinani perché chiaramente stiamo parlando di Dain, è una carta da mettere in tre per. questo perché voi scegliete un eroe durante una fase di azione e gli bustate di due tutte le caratteristiche. Questo vuol dire che se voi avete modo di mandare l'eroe in quest, stapparlo, farlo attaccare, stapparlo, farlo difendere, scusate, stapparlo, farlo attaccare, stapparlo, per esempio, tramite coraggi inaspettati o altri effetti di stapp, che cosa avete? Andate a pagare una risorsa per avere un bonus alle caratteristiche enorme, enorme, soprattutto perché non è fino alla fine della fase, ma è fino alla fine del round e soprattutto tutte le caratteristiche. Quindi, quando è utile, quando vi manca quei due progressi per esplorare il luogo attivo, quando vi manca quel due, quell'un danno per far fuori un nemico particolarmente ostico, quando vi manca i due di difesa per non prendere danni e così via. Quindi, è una carta estremamente versatile perché io, diciamo, generalmente non la gioco molto perché io preferisco avere dei bonus permanenti e non basarmi molto sugli eventi. Però, detto ciò, è più una questione di gusto, di preferenza, perché una carta del genere vi permette di vincere una partita ben prima che quella partita sia arrivata alla fine. E l'esempio molto semplice è che se una partita dura 10, 12, 15 turni è possibile che ci sia un momento tra il quarto, il quinto, il sesto e il turno dove vi rendete conto che se riuscite a fare quella cosa vi mettete sopra la quest. Io dico così, intendo dire vi mettete in una condizione tale che il mazzo incontri deve arrancare per darvi fastidio. Ecco, la canzone di Dure in questo senso aiuta perché ovviamente se voi superate quel luogo attivo fate fuori quel nemico in quel momento e non ve lo ritrovate ingaggiato il turno dopo eccetera 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 voi magari andate a vincere la partita al turno 6 anche se poi la chiudete al turno 15. Ecco, no? Come dire chiaro che poi non è che si mette il pilota automatico però il concetto è ci sono dei momenti chiave nella partita dove se si riescono a fare certe cose la partita va avanti e si può andare a vincere. ci sono dei momenti dove invece voi capite subito che se avete il terzo luogo nell'area di allestimento in true solo e non riuscite ad esplorare la location attiva ed esce il quarto luogo è chiaro che poi diventa difficile superare la minaccia che c'è nell'area di allestimento oppure avete un nemico particolarmente ostico che vi ingaggia non avete in mano alleati ci sono delle limitazioni a giocare agli alleati vi manca proprio quel punto di attacco per farlo fuori la canzone di Dure vi permette di superare queste difficoltà quindi carta evento molto specifica rispetto al For Gondor al Per Gondor del corset ma sicuramente utile interessante e probabilmente un must have nei mazzi viola che si basano sui nani spostiamoci ora verso Heather onward un evento viola costo 3 risposto dopo che i giocatori questano con in successo scegli un giocatore e quel giocatore non aumenta la sua minaccia allora se per la cintura di Narvi la canzone di Dure ci troviamo diciamo tendenzialmente di fronte a carte come dire che andrò a mettere fondamentalmente sempre se giocherò nani se giocherò più colori e così via Everonward è una carta un po' strana cioè anzitutto dice dopo che i giocatori hanno questato con il successo sceglie un giocatore quel giocatore non aumenta la sua minaccia allora è raro fare dei mazzi che puntano a perdere le fasi di ricerca non è impossibile però è raro nel senso io tendenzialmente soprattutto in true solo e questa carta chiaramente è pensata non dico per il true solo però il target è un unico giocatore per cui nel senso questano tutti tranne uno se ho un insuccesso a tutti saliamo la minaccia tranne quell'uno per esempio in realtà quell'uno potrebbe anche questare e voi potreste giocare questo evento per non far insalire la minaccia vedete come già è un po' cervellotica l'utilizzo di questa carta quando potrebbe essere utile? potrebbe essere utile perché voi avete tanti nemici ingaggiati non volete mandare tutti gli eroi tutti gli alleati in fase di ricerca volontariamente andate a perdere anche di 5 6 7 8 ma non vi si aumenta la minaccia quindi esistono delle situazioni in cui questa carta può essere utilizzata peraltro faccio una breve parentesi mi è capitato di ritornare su questa carta quando stavo giocando il cancello nero la penultima missione dell'espansione della saga del signore degli anelli perché lì ti trovi in una condizione per chi l'ha giocata lo sa molto particolare in cui di fatto devi semplicemente resistere il più possibile proprio come come nel libro e vai a perdere perdere continuamente le fasi di quest non perché lo vuoi fare ma perché non riesci a starci dietro a tutto ciò che il mazzo incontri ti butta addosso e più spesso ho pensato a questa carta dicendo beh in effetti anche se perdo di 15 la quest io con questa qui non mi faccio alzare la minaccia però tendenzialmente è una carta come dire difficile da usare probabilmente se fosse costata 2 lo sarebbe stato ugualmente a 3 è davvero una carta che anche se è una sfera che generalmente non ha problemi a pagare carte ecco non mi sembra questa super carta da voler utilizzare in tripla copia in ogni mazzo che comprende la sfera viola ecco quindi fatemi sapere se trovate qualche modalità curiosa di utilizzare questa carta ma credo che la finestra di utilizzo sia davvero piuttosto ridotta ok spostiamoci verso il veteran of Nandurion Nandurion scusate Nandurion che è un alleato della sfera tattica quindi è il primo che vediamo della sfera tattica costo 4 non è il primo alleato costo 4 forza di volontà 0 attacco 3 difesa 2 3 vite quindi delle statistiche tutto sommato interessanti la somma è 8 il costo 4 e questo nano guerriero dwarf warrior entra in gioco con un danno su di esso come un danno su di esso si entra in gioco con un danno su di esso questo è molto bello molto tematico essendo un veterano ma in realtà insomma è un veterano che molto spesso non vedrà mai il campo perché ci ritroviamo davanti a un alleato che ha delle statistiche davvero molto interessanti il dannino lo penalizza e il dannino lo porta ad avere una vita di 2 di fatto a meno che voi non giochiate il verde per curarlo e comunque non è ancora così semplice curare gli alleati lo sarà tra un po' durante questo ciclo ma non è ancora così semplice curare gli alleati e di conseguenza vado a pagare per un alleato che tendenzialmente mi attaccherà e basta perché potrebbe anche occasionalmente parare ma se mettete che un nemico ha un attacco 3 capite bene che 3-2 fa 1 se ha già un punto ferita rischiate di perdere pronti via per un effetto ombra un alleato che avete pagato 4 poi il confronto con le Eagles of the Misty Mountains è abbastanza impietoso nel senso che quelle hanno statistiche 2-2-2 4 hanno l'effetto che le Aquileve si mettono sotto e così via è vero che con Dine voi andate ad avere un alleato nano che attacca 4 però è anche vero che come si dice se voi fate il confronto con il lascere veterano del corset allora se noi prendiamo due asceri veterani e li paghiamo di fatto 4 è vero che sono due carte per cui non posso mai fare il confronto tra due carte e una carta però mi ritrovo con due alleati che potenzialmente grazie a Dine possono attaccare a 6 e non a 4 e che comunque hanno un pool di punti ferita di 4 e non diciamo di 3 meno 1 2 quindi insomma bella l'idea sicuramente potreste trovarvi a usarlo soprattutto nelle prime avventure del ciclo ma arriverà qualcuno che lo soppianterà radicalmente sempre un nano che però fondamentalmente sarà più forte di lui insomma non mi piace mai dire che una carta più forte è più debole di un'altra ma in questo caso quando ci arriveremo vi renderete conto che non c'è fondamentalmente paragone soprattutto considerando che come si dice voi andrete a giocare i mazzinani in un certo modo e quindi ci troveremo di fronte un alleato che pur costando meno andrà a essere molto più performante rispetto a questo ok però bella l'idea di avere un alleato che entra in gioco danneggiato perché è un veterano questa cosa mi sembra un po' piaciuta in realtà di questa carta ok spostiamoci verso la ascia di nanosterro door of death axe è un'aggiunta tattica costo 1 item weapon oggetto arma attaccala un personaggio nano limitato attenzione personaggio nano quindi non eroe nano il personaggio con questa giunta prende più 1 all'attacco risposta dopo che il personaggio con questa giunta attaccato fai un danno al nemico in difesa allora anche in questo caso noi abbiamo un confronto immediato con la ascia nanica che diciamo si attacca un eroe l'eroe prende più 1 più 2 se è un nano mentre invece e costa 2 mentre invece in questo caso abbiamo un'aggiunta che costa 1 deve essere necessariamente attaccata a un eroe scusate a un personaggio nano e il personaggio con questa giunta prende più 1 in realtà non è un più 1 è un qualcosa di migliore perché sostanzialmente dice risposta dopo che il personaggio con questa giunta attaccato fai un danno al personaggio difensore quindi questo non è un più 2 ok è un 1 è un più 1 rispetto alla forza di attacco ma in cui sostanzialmente voi farete un danno assicurato a un certo punto dell'attacco adesso vediamo quando indipendentemente dalla difesa del nemico ok quindi immaginate che voi attaccate a 5 contro una difesa a 5 non riuscite a fare danno ma con l'ascia di nanosterro se voi attaccate a 5 contro una difesa a 5 riuscirete comunque a fare un danno diretto superando la difesa proprio per la sua risposta quando si triggera allora qui il tema è un po' bisogna un po' scavare ma il concetto è che l'ascia di nanosterro si innesca dopo il passo 6.8.3 del determinare il combat damage cioè prima che l'attacco sia effettivamente concluso per cui sostanzialmente voi gli farete il danno prima di ammazzarlo conta tanto? allora conta nella misura in cui abbiamo duolin che come ci ricordiamo una volta che ha distrutto un orco riduce di due la minaccia ecco se voi uccidete un orco con l'ascia di nanosterro prima di ucciderlo nel combattimento quindi lo attaccate gli fate il danno non rimangono più danni questo muore l'orco non è distrutto da un attacco ma è distrutto da una risposta questo fa sì che il duolin non vada ad avere la sua riduzione di minaccia è una casistica se vogliamo ridotta però effettivamente l'ascia di nanosterro probabilmente non è l'arma migliore da dare a duolin tuttavia immaginatevi il nostro ascere veterano con dain e l'ascia di nanosterro avete un personaggio nano che pagate due che attacca di base a quattro e fa un danno diretto quindi come dire capite bene perché il veterano di prima che pur è un candidato per quest'ascia in realtà potrebbe rivelarsi sotto comunque un semplice ascere veterano del corset bustato e pompato da dain e dall'ascia di nanosterro quindi anche in questo caso una carta che va a migliorare una carta del corset che è la shananica con un target specifico proprio sul tratto nano interessante perché è un personaggio nano non un eroe nano spostiamoci verso l'evento tattica che è kazad kazad evento a costo zero azione scegli un personaggio nano fino alla fine della fase quel personaggio prende più tre all'attacco beh potremmo dire pochissimo su questa carta è un obbligo diciamo avere questa carta qualora gioco la tattica con i nani in tre per perché voi pagate zero per dare un più tre di attacco e stando al discorso che facevamo con la durin song ci sono dei momenti in cui riuscire a far fuori un nemico oppure avete un boss ed è il caso di questo ciclo in cui cominciamo a vedere certi boss penso all'osservatore nell'acqua penso al barro penso ai troll i vari troll che incontreremo avere una carta che è costo zero aggiunge più tre magari ce l'ho lasciato in anno sterro magari ce l'ho anche dyne e siccome questa fa il suo target è un dwarf character quindi non necessariamente un eroe capite bene che io direi che è un must have tre per in qualsiasi mazzo che sfrutta i nani e ha accesso alla tattica ecco una nota importante anche se costa zero l'abbiamo già detto in altri in altri momenti però anche se costa zero voi dovete poter generare quella risorsa tattica per cui se avete la cintura di narvi in un mazzo che non ha tattica potete anche tapparla all'inizio della fase di combattimento dichiarare rosso e poi utilizzarla per giocare kazat kazat ok però non cadete nell'errore di giocarla dicendo beh costa zero non c'è bisogno dell'eroe tattica no ci vuole sempre la possibilità che ci sia un eroe o una generazione di risorse tattica per poter giocare questa carta ok continuiamo a scavare più in profondità e andiamo verso lo zigil miner allora lo zigil miner è una carta che è stata faccata e che diciamo dà il via a un vero e proprio archetipo nano che è quello del mining del mazzo no adesso leggiamo la sua abilità diciamo che allo stato attuale del gioco non si intravede la potenzialità che è un acceleratore di risorse ma ancora non abbiamo né le carte completamente per poter sfruttare la pila degli scarti si abbiamo le rgt combatti ma ne arriveranno altre e non abbiamo neanche carte che il cui effetto si attiva quando vengono scartate dal top del mazzo ma arriveranno quindi ad oggi lo zigil miner è un po' ci fa capire ci fa vedere un tratto o meglio un archetipo nano che verrà sviluppato è comunque forte adesso lo vediamo ma aspettiamo ad avere una visione completa una volta che avremo qualche carta in più non ultima anche la stargazer che arriverà con questo ciclo allora che cos'è un alleato costo 2 1 1 1 1 un misero punto ferita per un nano che lo rende a portata di varie perfidie è appunto un nano di azione esaurisci lo zigil miner e nomina un numero per scartare le top 2 carte del tuo mazzo se almeno una di queste carte ha un costo uguale al numero nominato scegli un eroe che controlla per ogni carta che matcha quel numero aggiunge una risorsa al pool di quell'eroe allora che cosa vuol dire voi dite 2 tappate il nano scartate 2 carte se c'è almeno una carta che costa 2 aggiungete un eroe a vostra scelta che controllate una o due risorse a seconda che siano le carte che le carte che hanno il numero 2 di costo stampato abbiano siano una o due perché è molto forte perché è un acceleratore di risorse e voi certo non è uno steward of gondor però è anche in una spiera dello steward of gondor non c'è quindi voi tappate questo nanetto dite 2 e se scartate due carte che costano 2 aggiungete le risorse la cosa comoda è che una volta potete aggiungerla una volta potete aggiungerla un altro dei vostri eroi quindi riuscite bene a gestire le sfere ricordiamoci che avete bifora avete la cintura di narvi quindi insomma è un acceleratore di risorse molto flessibile che funziona nei mazzi non necessariamente solo nani ma nei mazzi che sono pensati con una curva di costo in un certo modo io a me piace molto questa carta la gioco spesso quando io gioco il zig il miner cerco di fare per esempio e li trovate tra l'altro anche su rings db dei mazzi che so dove tutto o se non tutto ma 40 40 carte su 50 costano 2 40 carte su 50 costano 1 chiaramente dipende dai colori che avete e così via però è interessante perché voi avete una ragionevole certezza di andare a prendervi le risorse che questo nano può darvi ok con cosa scomba bene ovviamente con l'ergite combatti che rianima un alleato o anche con la tomba nanica che io vado a riprendermi in mano una carta spirito che mi è caduta che si trova negli scarti quindi come dire tutto ciò che al momento interagisce con la pila degli scarti interagisce bene anche con lo zigil miner ok lo rivedremo più là man mano che ci ranno carte però diciamo che sicuramente ne capiamo la potenzialità spostiamoci verso evento spirito untroubled by darkness evento costo 2 azione ogni personaggio nano prende più nella forza di volontà fino a fine della fase più 2 invece se la location attiva è underground o dark quindi se ha il tratto sotterraneo o dark o scuro ma allora questa è una astonishing speed di fatto per i nani col vantaggio che costa uno in meno e lo svantaggio che invece dà più uno oppure più due solo se la location attiva è underground o dark beh mi è capitato n volte che questa fosse una carta estremamente risolutiva perché capite bene che se avete in solo 3 o 4 o 5 nani o in due giocatori 5, 6, 7, 8 10 nani che vanno in impresa che vanno in ricerca può avere un potenziale più 10 o addirittura più 20 tra l'altro può essere giocata dopo l'allestimento per cui si può vedere che cosa esce vi dà la possibilità di poter fare un pushing notevole sulla quest e magari anche andarla a vincere quindi questa è una carta che io non metterei in 3 per proprio perché non necessariamente non ho sempre bisogno ma che metterei quasi sempre quando giocherei quando gioco tratto nano e ho accesso a spirito proprio perché dà quel pushing che può farvi superare un momento di difficoltà oppure che può consegnarvi anche la vittoria diciamo che rispetto all'Astonishing Speed forse la preferisco perché costa un in meno e quindi ci permette anche di averlo in un mazzo dove magari abbiamo un solo eroe e spirito e di conseguenza faremo fatica a giocare addirittura 3 risorse azzurre mentre invece possiamo gestirle un po' meglio forse le due risorse azzurre ok spostiamoci verso l'Aerobore Record Keeper alleato sfera verde costo 1 1 0 0 1 statistiche proprio minimal l'Aerobore Keeper non può attaccare o difendere azioni esaurisce l'Aerobore Keeper e paga una risorsa verde per scegliere e stappare un personaggio enano allora questa è una carta che quando è uscita voi pagate 1 1 per avere 2 dei willpower grazie a Dain quindi è una carta che tuttora quando è uscita chiaramente era imprescindibile giocare enano tra Bifur e l'Aerobore Record Keeper ovviamente e anche l'Aerobore Hammersmith e il Miners of the Iron Hill del Core Set no quindi cominciavamo ad avere tanti nani nella sfera verde e questa cosa sarà sempre vera fondamentalmente certo è un po' di evoluccio con quello 1 di vita però già pagare 1 avere 1 che questa 2 capite bene fortissimo in più ha un'azione che lo rende estremamente interessante è vero non potrà mai attaccare o difendere quindi non potrà essere un blocker dell'ultimo secondo ma voi potete pagando una risorsa all'occorrenza andare a stappare un nano che può essere un attaccante un difensore ok quindi andate a guadagnare action advantage pagando risorse grazie all'Aerobore record keeper quanto è utile questa abilità tanto tanto utile perché all'inizio quando giocherete l'Aerobore record keeper lo vorrete assolutamente mandare in ricerca man mano che invece la partita va avanti e il vostro board diventa sempre più più corposo può anche essere che decidiate di dire no lo tengo dietro proprio perché magari mi serve avere il secondo difensore oppure mi serve avere Dain che para due volte oppure mi serve avere Gimli che attacca due volte quindi nel senso siccome tra l'altro non c'è un limite sul giocatore in realtà se giocate un multiplayer voi potete anche andare a stappare dei nani di altri giocatori no quindi carta assolutamente imprescindibile tuttora in un pool esteso se si gioca nani e si gioca verdi secondo me l'Aerobore record keeper in 3x ci vuole proprio perché comunque se anche ed è voluccio ma se riesce a fare un paio di due o tre turni di questata e ce l'avete in prima mano si ripaga ampiamente anche se dovesse morire figuriamoci se arriva a fine partita per cui carta molto molto utile molto molto interessante spostiamoci verso l'Ancestral Knowledge Evento costo 1 azione esaurisci un personaggio enano per piazzare due progress token sulla location attiva 4 progress tokens invece se la location è un underground o una montagna allora questa cosa ritorna un po' è molto tematica c'era anche in Trouble by Darkness ovviamente quando giocheremo il ciclo di Gondor o il ciclo di Isengard o la Dream Chaser saranno poche le underground or mountain ci sono perché mountain è un tratto che troveremo anche d'altre parti underground potrebbe anche trovarsi in altri cicli però chiaramente sono specifiche molto utilizzate soprattutto in come si dice nel ciclo di nanosterro e nel ciclo di moria ovviamente insomma questo questo ce lo immaginiamo chiaramente se la location attiva è underground o montagna è una cosa che ci interessa molto perché una risorsa verde per 4 progress su una location che magari ci dà fastidio che magari non riusciamo a superare che magari siamo bloccati con la fase di quest e così via ci aiuta notevolmente a liberare questo luogo chiaramente anche qua si può fare il paragone con la strength of will dove è vero che questo costa zero ma è ben più limitato è ben più limitato perché devi viaggiare a una location devi esaurire un personaggio spirito e non un personaggio nano per piazzare due progress su quella location mentre invece qui può anche essere che tu lo fai anche se non viaggi proprio perché non sei riuscito a mettere progress token sulla location attiva vai a utilizzare questa carta che magari blasta ti distrugge la location attiva quindi questa rientra in quel toolkit di carte verdi con gli effetti one shot che però possono svoltarvi la partita come vi ho detto prima non sono in generale un fan di queste carte io preferisco avere un board solido piuttosto che eventi in mano però questa si aggiunge ai vari striders spot radaga scanning insomma tutte le carte che abbiamo visto anche nel corset che vanno non so togli la minaccia di quel luogo nell'area di allestimento per questa fase togli la minaccia di quel nemico nell'area di allestimento per questa fase e questo può aiutarvi a gestire meglio questo aspetto della partita che ripeto al di là del gusto personale è fondamentale proprio perché ci sono dei momenti nella partita dove bisogna superarli altrimenti poi si arrancano e quindi l'ancestral knowledge vi aiuta in questo spostiamoci verso gli scarponi boots from herabor attachment neutrale a costo zero item aggregola un personaggio nano un personaggio hobbit limite di uno scarpone per personaggio il personaggio con questa aggiunta prende più un hit point ma allora probabilmente più in là nel tempo si utilizzeranno meno queste carte ma allo stato attuale non vedo perché non dovrei giocare gratuitamente un'aggiunta Gimli che gli dà magari un punto ferita in più un'aggiunta Gloin che gli dà un punto ferita in più un'aggiunta Frodo che gli dà un punto ferita in più quindi in realtà siccome è neutrale e va a prendere un character nano non necessariamente un eroe è una carta che in questa fase secondo me è molto utile può essere utilizzata grandemente proprio perché va bene in qualsiasi mazzo nano male non fa non è una carta morta spesso un hit point sul difensore può fare la differenza tra vita e morte di quel difensore e quindi insomma è un attachment che oltre a essere tematico non è l'unico che andrà a colpire hobbit e nani questa cosa è bella interessante ne vedremo tra l'altro in questo ciclo anche anche altre e può essere tranquillamente giocata in più coppie in qualsiasi mazzo che sfrutta il tratto nano che come abbiamo visto in questa deluxe acquisisce veramente molta forza e o il tratto il tratto hobbit ok allora siamo giunti alla conclusione di questa un po' più lunga del solito analisi delle carte ma ci stava perché comunque il ciclo di casa doom la deluxe di casa doom va a potenziare forse il primo vero tratto potenziato nel gioco dei signori anelli che è il tratto nano e quindi ci tenevo a parlare un po' più in dettaglio di delle varie carte come detto poi avremo un ciclo quello di nanosterro dove sostanzialmente vedremo tanti noldor e quindi cominceremo a vedere il tratto noldor e avremo delle aggiunte pazzesche al pool di carte aggiunte che poi ci accompagneranno per tutto il gioco penso con l'olfind spirito o herond per non parlare comunque anche dei due gemelli eladan ed herroir che sono utilissimi aragorn verde insomma ne avremo un bel po' da vedere io vi ringrazio i prossimi tre video saranno dedicati a le tre partite le tre avventure del ciclo di Khazaddam che ci vedranno poi fuggire da Moria e attraversare superare le montagne nebbiose tanto vi ringrazio buona serata alla prossima ciao